Ragazzi buongiorno e benvenuti in questo nuovo episodio. Allora devo dire che questo tizio ha avuto la peggior reazione agli steroidi che io abbia mai visto in vita mia. Se tu sei sensibile a forti reazioni di acne ti invito a acquisti il cappello, primo link in descrizione e dopo salta il video, ok? In caso contrario adesso andremo a vedere il video. Io mi sono imbattuto su questo video di TikTok che è andato letteralmente virale, ha fatto più di 15 milioni di visualizzazioni qualche giorno fa. E ho pure contattato tra l'altro ragazzo, lui si chiama John Joshua James su TikTok, che dopo vi mostro la conversazione c'è una cosa che mi ha veramente scioccato, che mi ha detto. Comunque questo è il video di cui vi parlavo, guardiamolo insieme. Ragazzi allora non so se è più scioccante il fatto che lui non si sia informato di quali potessero essere gli effetti collaterali dovuti agli steroidi, o il fatto che dice che ne è valsa la pena, avete visto la sua schiena. Quelle cicatrici se le porterà dietro a vita, le cicatrici dovute all'acne se le porterà dietro a vita. E non oso immaginare uno di quanto sia doloroso, due di quanto sia scomodo, perché ogni volta che vai a dormire dovrai cambiare le tue lenzuola, dovrai cambiare 10 metri al giorno, ogni volta che ti fai la doccia, sarà un pozzo di sangue. Appena ti poggi su una panca piana, te partono una ventina di bolle, tutte insieme, pusso ovunque, sangue ovunque. Uno schifo, sì. Il fatto che non si sia neanche informato, trovo veramente che sia un cattivissimo esempio. Veramente un cattivissimo esempio. Ed è contento che è arrivato a 180 libri e corrispondono. Piovinato 81 kg, sì, 81 kg se non erro. Follia. Guardiamo questo altro video. Altre due cose che mi hanno sciocchato in questo video. Lui non è che dice che ha iniziato palestra, ha fatto palestra per qualche anno, e come fanno la maggior parte, gli utilizzatori di farmaci, inizi il tuo ciclo. Questo qua, il primo giorno che ha messo i piedi in palestra, ha iniziato il suo ciclo. Quindi non sapeva neanche il suo potenziale genetico, eccetera. E se lo guardi, onestamente, pensi, non diresti mai che fa utilizzo di steroidi. Un neofita, ragazzi, ha un potenziale di mettere massa muscolare veramente esagerato. Se lui mi avesse contattato, io avrei mandato il mio libro di cucina e il mio programma e sarebbe diventato il doppio. Comunque, lui ha preso 30 libri in 4 mesi. 30 libri in 4 mesi che corrispondono più o meno a 13 kg. Ovviamente non sono 13 kg di massa muscolare, è anche tanta acqua dovuto all'utilizzo degli steroidi. Questo qua, ovviamente, prenderà testosterone e derivati, perché con la schiena, ragazzi, è un campo minato. Guardiamo il prima e dopo. Ah, ok, almeno dice, ragazzi, non fate ciò che ho fatto. Questo qui, ragazzi, è uno dei peggiori esempi che io abbia mai visto su internet. Prendere farmaci, innanzitutto, è strasbagliato, ma vi faccio vedere la conversazione ancora peggio. Guardiamo questo ultimo video. Quindi, lui ha iniziato questo ciclo per curiosità e continuerà a farlo. Non è che lui si pone la questione. Qualsiasi cosa io stia facendo, il mio corpo, non è del tutto contento. Basta che ti giri e guardi la tua schiena. No, lui è contento di farlo e vuole continuare a farlo. Adesso, ragazzi, vi mostro la conversazione che ho avuto insieme a lui. Innanzitutto, lo ringrazio per aver risposto e aver accettato questo video. Allora, io gli ho chiesto se lui volesse condividere il suo ciclo di steroidi. Lui ha preferito di tenerselo privato. Che posso capire? In seguito, gli ho fatto altre domande e questa è la sua risposta. Attualmente peso 180 libri. Pesavo 150 libri. La mia opinione sugli steroidi è che fanno male. E le persone che lo fanno di segreto, ovvero i fake natis, fanno male al mondo. Condivido pienamente questa cosa. L'ho fatto per curiosità. Non lo farei nuovamente, ma adesso che ho provato, continuerò a farlo. Io poi gli ho chiesto, ma stai trattando in qualche modo la tua reazione che hai avuto, ovvero l'acne? E lui mi ha risposto, non sto trattando l'acne. Non ho i soldi per farlo. Allora, questa cosa mi ha scioccato ragazzi. Lui ha i soldi per acquistare i steroidi, però non ha i soldi per tutto ciò che succede intorno. Innanzitutto vi strasconsiglio l'utilizzo di farmaci. Ma come ha detto io, non sono nessuno per dire cosa fare e cosa non fare. Se tu decidi di fare il contrario, io non sono nessuno per fermarti. Ma almeno fammi questo piacere, anzi fatti questo piacere. Ma vai a fare le tue visite mediche. Controlla se tutto è ok. Perché ragazzi, se questo qua non ha neanche i soldi per trattarsi gli effetti collaterali di steroidi, questo è uno dei peggiori esempi che io abbia mai visto. E i commenti sotto questo video ragazzi, se ne fosse uno che sia positivo. La maggior parte dei commenti sono, questo ero io natural senza aver messo un piede in palestra. E se io mi cerco di mettere nei panni di questo ragazzo, che è molto difficile per me, io penso che questo ragazzo continuerà forse ad aumentare le dosi per diventare più grosse e mostrare sui social media che ci è, tra virgolette, riuscito. Immaginatevi se questo dice costruisce un bel fisico e dal momento in cui si toglie la maglia. Ma secondo voi le persone guarderanno il suo fisico o il disastro che gli è successo dietro la schiena? Ditemi voi. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, commenta, fammi sapere cosa ne pensi, sono molto curioso. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi episodi. Ragazzi, io vi mando un abbraccio grosso a tutti quanti e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!